Non lo so Anna, secondo me è un passo troppo affrettato. Questo passo ci renderà felici, per sempre. Guarda che cosa mi sono fatta per voi! Bentornati! Marzandello Gossip Time, la notizia ufficiale. Non mi direi che è quello che penso io. Di sicuro non è un ulop per formiche. E ora chi glielo dice che ci siamo lasciati? Come lasciati? Claudio vi deve dare una notizia. Claudio! No, non ce la faccio! Anna, mi vuoi sposare? Sì! Vieni qua così, t'ammazzo e poi te ne vai! Eh no, grazie per l'invito, rifiuto l'offerta e vado avanti. Vieni qua, vieni qua! Questo matrimonio sarà l'occasione giusta per lanciare il cannolo degli innamorati a livello internazionale. In tutta la Sicilia. È proprio un'idea schierta. Schifosa e di merda. Sono sei mesi che stiamo insieme e tu racconti ai tuoi genitori che stanno ancora con Claudio? Lo potete fare anche qui. Mamma! Ai, 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 l'omba! Sotto lo sguardo attento di Santi Pazio di Gangra. Il santo protettore del cosino. Papà! Ah, scusa, scusa. Del coso, del coso. E viva gli sposi! A voi! Questa è casa nostra! Il nostro regalo per voi, cuccioli! Dobbiamo aiutarli a scappare, non si possono sposare! Ma è una puriglia. Cioè, ma ti rendi conto che tra tre giorni ci sposiamo? Cioè sabato! Anna, guarda che non è una tragedia solo per te, ma anche per me. Sabato c'era l'anticipo del Palermo. Danza sotto al sole perché il sole poi ti scalda.